Bentornati su MyFootballJersey. Euro 2024 si avvicina velocemente, i campionati nazionali sono ormai alle porte, quasi conclusi, molti, non dico già decisi, ma quasi. Quindi vediamo le maglie per i prossimi europei. Questa è la prima maglia dell'Olanda in edizione Player. Grazie a tutti. La maglia non è niente male, ovviamente da tradizione è una maglia orange, con questa rifinitura in blu, molto bello come al solito il tessuto della versione Player. Il costo l'avete visto, va sopra una maglia che arriva molto velocemente, questa è arrivata in 22 giorni e che ha un'ottima qualità. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, ditemi quali altre maglie vorreste vedere in futuro. Iscrivetevi al canale, ora vi lascio la parte finale, alla prossima! Ciao! 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 Ciao!